Grazie Presidente, anche in questo caso esprimo io la posizione del Movimento 5 Stelle, posizione che è stata disposta dal nostro consigliere Frongia che è il commissario della Commissione Urbanistica. Qua su questo piano casa di Alemanno e su alcune densificazioni si giunge a un vero e proprio miracolo da parte dei partiti di opposizione del PD o come citava poco anzi il consigliere raggi soprattutto di SEL, una vera e propria mutazione genetica della semantica. Il PD mentre era sindaco Alemanno considerava, noi lo ricordiamo bene perché gli ultimi giorni della consigliatura anche con il consigliere Enrico Stefano eravamo presenti in quei consigli che si sono svolti di notte, quando il PD si opponeva o faceva forse finta di opporsi perché considerava Presidente, chiedo il silenzio perché considerava queste considerazioni un orrore, ci chiediamo oggi cosa ne pensi il consigliere Panecaldo ad esempio, ora invece le porta in aula e parla di piccole densificazioni buone se non addirittura necessarie per completare le opere di urbanizzazione di alcuni piani di zona. Allora ci chiediamo ma a seconda di chi governi come nel corso della precedente consigliatura si opponevano e oggi che sono maggioranza le portano avanti? Ma allora chi è che governa questa città di volta in volta a prescindere da chi sia maggioranza? I partiti o degli interessi? Ma noi come amministratori responsabili dovremmo invece chiederci che cosa non ha funzionato in questi piani di zona? Perché le opere di urbanizzazione non sono state completate? E perché chi ha sbagliato, chi non ha completato non risponde mai delle delle sue responsabilità? È possibile che ci siano migliaia di cittadini che non abbiano fogne o opere di urbanizzazione adeguate e che l'unica soluzione sia aumentare il numero di persone che insistono su quei piani di zona? Ma noi ci ricordiamo bene, perché abbiamo memoria, che il sindaco Marino si presentò agli elettori e vinse queste elezioni con lo slogan una città a misura di bambino, è densificando che voi pensate di fare una città a misura di bambino e siamo sorpresi soprattutto da alcuni gruppi che fanno finta di tenere alcune posizioni come Sella ad esempio, ma poi all'occorrenza pigiano sempre il tasto sul voto sì. Grazie per la visione!